Oggi, 2 aprile 2018, Aldo si trova in questo piccolo paese, Olcio, di nuovo ritornato qui, perché mi piace la località. Olcio, come dicevo, è una frazione di Mandello dell'Ario, provincia di Lecco. Ecco, io mi sto avviando ora a piedi, sono io. Aldo, sto avviando sotto questo bel ponticello, per andare al lago, al lago Lecco, ed è qua, è la sponda del ramo di Lecco, si chiama lago di Como o lago Ilario. Però è la sponda del ramo di Lecco, perché, sommato, il lago è fatto a forchetta, diciamo, meglio dire, Nixilon alla rovescio. E mi trovo dalla sponda Lecco, Mandello dell'Ario, Varenna, Colico. Ecco che si vede il lago, sono arrivato all'uscita del tunnel, che bello. Beh, ieri era più bello il tempo, c'era un tempo sereno, oggi è più nebbioso, infatti domani cambia il tempo. C'è di fronte l'unica montagnetta innevata, poi man mano la neve si scioglie, infatti si può dire l'ultima neve di primavera. Vedo di fronte me, nell'altra sponda, mi sembra Onno e Vassena. E poi, proseguendo da Vassena, si arriva alla punta estrema di Bellagio. Ecco che sono qui, sto aspettando, in questo momento, il prete di Olcio. Non ci credo, ciò che mi hanno detto, ha un appartamentino piccolo che lo può dare senza pagare. Questo è tutto da vedere. Comunque, aspetto fino alle ore 18, il prete, che lo conoscevo già anni indietro, parente della signora Faggi di Varenna. Vi saluto da questa sponda del ramo del lago di Como, vedo di fronte me gli anatroccoli e prometto che questo paese venga da me considerato importante, perché esisteva nel 1931 un poeta, meglio dire un pittore, che ha fatto l'Accademia di Brera a Milano, nominato Maioli. E infatti, in tutte le vie, passando, c'è la dedica di questo pittore che abitava a Milano e è venuto qua ad abitare a Olcio, in questo paese. Era un ritrattista, faceva i paesaggi del bel lago di Como. Nature, morte, no, di più paesaggi vedo nel suo depliant su internet. Vi saluto da questo breve YouTube Aldo Maspero Leremita ad Olcio, Mandello dell'Ario.